il lavoro del futuro ciao sono Cristian di Firenze ho 34 anni annuso il pannolino del vostro bambino se hai fatto la cacca per 6 euro posso venire a casa vostra annusarlo e eventualmente vi dico di cambiarlo oppure no ciao sentire ma si sta si sta guarda guarda che mestiere infame no annusa anche a sedere dei figli non tuoi forse no chi è che è stato il destino fa tempo grazie a tutti